In questa puntata andiamo a vedere come creare passo passo un account su Interactive Brokers. La primissima cosa da dover fare è quella di andare in descrizione di questo video e cliccare il primo link che vedete. Cliccando il link si aprirà questa pagina che è la pagina ufficiale dedicata a Interactive Brokers. Mi raccomando cliccate il link che vedete qui sotto in descrizione cosicché siete sicuri di arrivare alla pagina web corretta. Successivamente in questa pagina basterà semplicemente cliccare su apri un conto, qui clicca ancora apri un conto. Arrivati a questa pagina vi basterà semplicemente inserire il vostro indirizzo mail, scegliere un nome attente a piacere, inserire una password, successivamente confermare la password che avete deciso di inserire e scrivere anche il paese dove siete residenti. Successivamente vado a selezionare le preferenze di marketing, quindi voglio che Interactive Brokers mi vada a contattare in merito pubblicità, funzionalità, prodotti, offerte. Io in questo caso vado a selezionare di no e poi vado a cliccare creare un conto. Qui mi verrà chiesto di andare a verificare il mio indirizzo mail in quanto per approvare un conto è obbligatorio andare a eseguire la verifica dell'indirizzo mail. E poi qua mi viene a chiedere di selezionare il tipo di conto, quindi se voglio un conto individuale, quindi un conto unico controllato da un unico soggetto, cointestato, quindi un conto unico controllato da due soggetti e poi qui mi chiede un conto IRA, cioè conto pensionistico individuale disponibile solamente per le persone fisiche con residenza fiscale negli Stati Uniti. Quindi in questo caso io se voglio un conto solo per me, dove ci sono solamente io, vado a mettere conto individuale. Poi queste altre opzioni sono per i conti trust, per consulenti, clienti istituzionali, eccetera eccetera, quindi non ci interessa. Qui mi viene poi a chiedere la lingua di inserimento, quindi la lingua di inserimento è usata per inserire tutte le informazioni. Vado a inserire la lingua italiana e mi viene a chiedere il titolare, i titolari del conto saranno anche beneficiari effettivi di tutti i fondi e investimenti retenuti nel conto? Se la risposta è sì, mettete sì, altrimenti no. Quindi in questo caso vado a mettere sì e successivamente vado a fare avviare richiesta di aprire un conto. Ecco, importante, dopo aver deciso di proseguire alla sezione successiva non sarà più possibile tornare su questa pagina, quindi fate attenzione che tutti i dati siano corretti. Quindi andiamo su avviare la registrazione e qui mi andrà a chiedere le informazioni personali, quindi devo andare a mettere il mio nome, cognome, l'indirizzo, dove risiedo, la città, lo stato, il cap, successivamente insomma tutte queste informazioni personali, residenza fiscale, codice fiscale, l'identificazione. Quindi andare a mettere poi effettivamente il mio documento di identità, quindi vado a scegliere il documento di identità, vado a mettere anche il numero del documento e successivamente vado a compilare i dati relativi alla mia occupazione, quindi che lavoro faccio e anche la fonte di origine del mio patrimonio. Tutte queste informazioni vengono richieste per la normativa antiriciclaggio e tra l'altro la richiesta dell'origine del patrimonio è effettivamente i soldi che andate a investire, da dove derivano, cioè derivano da reddito da lavoro, vendita di una proprietà, eredità o altre cose, insomma avete qui tutte le opzioni. Tra l'altro potete selezionare anche più opzioni. Poi vado a inserire le informazioni del conto, quindi la valuta di base di riferimento, in questo caso se usate euro andate a mettere euro. E poi qui vado a mettere le domande di sicurezza che sono molto importanti perché le domande di sicurezza, vedete qui avete tutta una serie di domande tipo in questo caso quale lavoro svolgeva suo padre, vado a dare la risposta ed è importante poi ricordarsi e segnarsi le risposte. Quindi magari prendete un documento a parte dove vi segnate sia le domande sia le risposte perché in caso, non so, succede qualcosa, non riuscite più ad accedere a Interactive Brokers, non ne ho la più palida idea, succede un disastro, ok? Volete recuperare magari l'account, questo vi facilita molto perché comunque riuscirete a recuperarlo in ogni caso, però se avete le risposte alle vostre domande di sicurezza il processo poi di identificazione è più veloce. Ecco, magari un consiglio, non tenete le risposte alle domande di sicurezza sul vostro computer che se magari vi hackerano poi il computer è un disastro, quindi magari segnatevelo su un foglio a parte e mettetelo in sicurezza. Successivamente vado a fare la verifica del numero di telefono e vado qua ragazzi, molto importante, a scegliere il tipo di account che può essere cash o margin. Innanzitutto se vi state chiedendo qual è la differenza vi dico andate su cash perché? Perché semplicemente ragazzi cash io vado a mettere a rischio il capitale che ho, ok? Quindi il capitale che vado a depositare sulla piattaforma. Margin è per chi ha una certa esperienza nel mondo della finanza, trading, investimenti perché praticamente vado a utilizzare soldi non miei. Quindi l'account margine praticamente posso andare a fare più cose con gli investimenti e con il trading ma che praticamente richiedono la presa in prestito di soldi. Quindi voglio utilizzare la finanziaria o voglio andare a prendere dei prestiti per fare investimenti eccetera eccetera. Soprattutto la cosa importante da ricordare è che per aprire un conto margin serve almeno a depositare 2000 dollari, 2000 euro sul conto. Quindi se vi chiedete qual è la differenza andate su cash perché margin è per chi è già un trader o investitore professionista o comunque in ogni caso vuole quel tipo di operatività. Successivamente vado a inserire le informazioni sullo stipendio e sul mio patrimonio, vado poi a mettere gli obiettivi e lo scopo delle operazioni finanziarie, cioè praticamente io perché sto andando ad aprire un account, qual è il mio obiettivo negli investimenti che sto andando a fare. Vado poi a mettere anche le informazioni sulla mia esperienza di trading e poi successivamente vado a confermare le informazioni sulla residenza e vado a mandare in approvazione l'applicazione. Se tutto andrà per il meglio riceverete una mail di conferma sullo stato innanzitutto della vostra approvazione e qualora la vostra applicazione, la vostra domanda di apertura del conto dovesse andare a buon fine riceverete via mail la conferma e anche comunque nel caso in cui non dovesse andare a buon fine riceverete una mail con le motivazioni e le cose che dovete andare a sistemare. Fatto tutto questo avete aperto un account su Interactive Brokers, ora la cosa molto importante è quella di andare a scaricare sul vostro telefonino l'applicazione di Interactive Brokers. Quindi semplicemente andate a cercare sulle applicazioni del vostro telefono, andate a scaricare l'app di IBKR perché questa vi servirà poi come token per andarvi ad autenticare sia sulla piattaforma web di Interactive Brokers ma anche qualora voi vogliate andare a scaricare la TVS. Cioè praticamente la Trader Workstation per cui IBKR è molto famosa. Quindi se volete scaricare questo dovete comunque andare a avere sul vostro telefono l'applicazione perché così come token per verifica di sicurezza vi servirà per accedere alla piattaforma. Quindi spero che questo tutorial vi sia servito, se così è mettete un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete il link ufficiale per iscriversi a Interactive Brokers e infine vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, io non sono un consulente finanziario per cui fate sempre le vostre ricerche prima di mettere a rischio il vostro capitale all'interno dei mercati finanziari.